Bene, oggi vi faccio vedere questa radio, questo Intec Multicom 497 che secondo me è una radio molto interessante andrebbe un attimino sviluppata meglio, quello sì, sistemata e corretta in tanti difetti però secondo me è una buona alternativa al Saturno perché è una radio tutto sommato gradevole, carina funzionava anch'essa a 220, c'è l'altoparlante interno la particolarità di questa radio è che sarà montata una schiera trasverter per i 40 metri non l'ho montata io, ho fatto solamente un ripristino e niente, però secondo me è una radio che nel complesso non è male vi faccio vedere questa perché poi insomma i soliti 48V doppi li facciamo tutti questa è una cosa un po' più particolare ola, 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 ola la radio è da 5-6W più o meno in banda laterale normalmente poi andando con la schiera trasverter in 40 metri tira fuori una quindicina di watt che non sono pochi, non sono molti però considerando che chi va in QRP usa 5W insomma, una quindicina di watt sono abbastanza per farsi sentire nel complesso, secondo me se è migliorata, sistemata, ricezione, trasmissione e tutto questa è una radio che è ancora molto gradevole più piccolina del Saturno e secondo me è un'ottima alternativa è un'ottima alternativa